Siamo con la professoressa Elvira Calabria, presidente dell'associazione Amici della Musica Giovanni Paesiello di Lucera. Professoressa, questa sera Sala Paesiello ospita il quartetto di Omedee, composto prevalentemente da giovani artisti pugliesi. Gli Amici della Musica di Lucera sono aperti sempre a nuove novità, ma soprattutto ai talenti di capitanata. Senz'altro, è proprio questo il nostro compito, perché è vero che noi attraiamo i talenti che provengono da fuori, anche dall'estero, quindi un po' da ogni parte del mondo, sarei dire perché state vedendo come vengono un po' da tutte le parti, però il nostro riferimento essenziale, il nostro motivo per cui qui si fa musica è perché i nostri talenti devono trovare la loro ragione, di essernarsi, di potersi fare conoscere e quindi di essernare il loro talento e le loro capacità musicali. Noi sin dall'inizio, proprio dalla nascita di questa associazione, facendo suonare i giovani allievi, gli allievi anche del conservatorio di musica, abbiamo cercato di mettere in evidenza, di mettere in luce questi talenti nostri che appunto venivano fuori e si manifestavano via via proprio nella nostra terra. E' il compito nostro, come penso si dovrebbe fare non solo nella musica, ma in ogni settore essenziale proprio della vita. Insomma, noi, la regione nostra innanzitutto e poi il mondo, l'Italia e il mondo. Ci può dare una sua opinione sul quartetto di Omedee che, come sappiamo, domani debutterà a Bovino, città nativa dell'artista Liliana Rossi? Eh beh, il quartetto di Omedee, che cosa posso dire? Io conosco tre almeno di questi giovani che formano il quartetto da piccoli, quindi il curriculum loro, io lo so quasi a memoria, perché li ho seguiti dalla loro tenera età, quindi ho seguiti i loro studi, sia per Francesco Mastromatteo che per Saveria che per Luigi Gagliano anche, perché in quanto di Foggia ha suonato già varie volte qui, quindi so la sua carriera, la sua brillante carriera che sta svolgendo come gli altri, un po' anche per l'altro violino che non conosco tanto, ma è anche il nostro talento musicista che ha suonato qualche altra volta già qui pure, e quindi posso dare tutte le garanzie. Io un po', per quanto ho potuto ascoltare nelle prove, c'è un grande affiatamento, un grande affiatamento che porta ad una perfezione propria, ad una compenetrazione, ad una fusione di suono, che rende molto gradevole l'ascolto e veramente si fanno seguire, si fanno seguire con tanto attenzione e con tanto godimento spirituale.